Dove siamo Luca? Sul tardobbio a Novara dietro il cimo. E abbiamo fatto qualcosa in te? Un luccio mi ha perso da uno che pescava senza il gavetto. Di dove sei? Confianze. Confianze. Quindi Sevilla, Porta Milano. Esatto. Sul Sevilla, cosa c'è dalle tue parti? Sul Sevilla, da Ronfavalle, così c'è un po' di tutto. Carpe, Siluri. Dov'è sta Ronfavalle? Ronfavalle si prende la discesa a Palestro vicino alla Torre del Castello. Dov'è la Torre del Castello? Qui siamo in tutta Italia. Come vuoi che ne sappiano della Torre del Castello? Che paese sei? Palestro è un paese talmente piccolo che quando arrivi se non vedi la Torre del Castello è perché schifo i celli. Perché non puoi non vederla per l'unica torre di tutto il paese, che è un paesino piccolino. E lì? C'è. C'è una discesa, lasciando la torre, arrivando dalla parte, è tanto senso unico, quindi arriva dalla parte sola. Scendi giù dalla discesa, lasciando la torre sulla tua sinistra, prosegui sullo sterrato, poi mantieni sempre e sempre esclusivamente la sinistra. Cosa c'è? C'è un bel fondale, che parte da Passo dall'inizio dove entra la crocetta, un fondale anche di 8 metri. Siluri, Carpe, e poi Cavedani, Carassi e Aspie. Gli Aspie li possiamo trovare anche lì, ma ci sono più su. Va bene. Ma busca la pivaca. Sono fischi di tornovare, quindi il crescito bisogna andare a vedere. Vulo, volto, abiti, volto, no? Io me lo ricordo. E cosa c'è nella busca di Albiraga? In busca di Albiraga, anche se è un po' difficile pescare per la corrente, troviamo grandi quantità di ciprinidi. un po' di tutti i tipi, barbica, vedeni, carpe, qualche sinurotto, l'anno scorso abbiamo preso le due cagnette, ci sono arborelli, piozzi, le robe scardole, quelle grosse, i geni, i geni. Io con la leggezza, la concienza, la concienza, la concienza, la concienza, il più ambito, un uomo, la concienza, e fai uno speciale gioco per portare, per scegliere la ragazza, la portare a pescare con noi. io compro un chilo di bigattini chi si avvicina di più al numero di quanti sono numericamente vincere serata con me signori adesso ve lo faccio vedere poi ditemi voi se ti credete o no a a a a a a a